La mia storia e la storia di questa azienda è sempre stata una storia naturale, è tutto venuto in maniera molto istintiva e molto naturale. Ognuno mette dentro la propria automobile quello che ha dentro e quello che è il proprio concetto e non potrei fare nient'altro se non questo, è la mia vita, è il mio mondo questo, da sempre. La mia storia è la mia storia, è la mia storia, è la mia storia, è il mio mondo Pag. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.